Chi riuscirà a soddisfare i requisiti del piano urbanistico? Oggi giochiamo a Sunrise Lane! Ciao a tutti giocatori e semplici curiosi! Noi siamo i giullari come ogni lunedì e mercoledì siamo qui con un nuovo gameplay che quest'oggi è stato sponsorizzato da Cranio Creations e quest'oggi vi portiamo in un bellissimo quartiere residenziale dove tutto sembra molto tranquillo ma gli abitanti stessi di queste residenze non sanno che dietro c'è una feroce guerra degli imprenditori delle imprese di costruzione e proprio di questi lotti che si fanno una guerra spietata per accappararsi il miglior lotto residenziale, farlo più bello e avere più soldi e ricordiamo tutti in campo con lotti! Ma come state vedendo apparecchiato noi abbiamo già il nostro quartiere pronto per essere edificato con tutti i suoi bei parchetti bei laghetti ma soprattutto tante caselle su cui andremo a posizionare le nostre casettine le caselle come vedete sono in 5 colori diversi con dei numeri, dei pallini all'interno che ci serviranno per fare punti nel corso della partita non sarà l'unica cosa con cui faremo punti perché infatti come state vedendo abbiamo questa carta riassuntiva che ci ricorda che alla fine della partita faremo punti per chi avrà le case gli edifici più alti nella zona A del tabellone che avrà costruito il maggior numero di case a prescindere dall'altezza nelle zone B rosse del tabellone e poi sulla C ovvero il tabellone nella sua interezza che avrà costruito la sequenza di case ininterrotta più grande ma cos'è la sezione A? la sezione B del nostro tabellone? e come state vedendo il tabellone è diviso in queste aree agli angoli opposti nelle aree blu che state vedendo adesso dove proprio c'è circondato da questa griglia blu andremo a valutare che avrà costruito gli edifici più alti invece negli altri due angoli opposti quelli rossi che avrà costruito più case a prescindere dall'altezza noi siamo quindi pronti ad iniziare e partirà il giocatore più giovane che ottiene le chiavi della città e ognuno di noi pesca tre carte certo che dare le chiavi della città più giovane per forza perché il futuro è in mano a noi giovani noi giovani soprattutto noi nel nostro turno abbiamo a disposizione due azioni o costruiamo case e o parchi oppure peschiamo due carte io sceglierò di partire proprio pescando due carte bella varietà di colori perfetto allora dai pesco anche io due carte ok voglio un attimo allora io adesso inizierò a costruire nel costruire sì allora noi quando vogliamo costruire possiamo inizialmente partire soltanto in una delle quattro caselle ortogonali alla fontana centrale dopodiché quando costruiremo dovremo costruire sempre adiacente a qualcosa o la fontana o un qualsiasi palazzo di un qualsiasi giocatore o un qualsiasi parco costruito da un qualsiasi giocatore quando andiamo a costruire noi dobbiamo scartare carte del colore della casella su cui vogliamo costruire da una a cinque carte che è il limite massimo della nostra mano per esempio inizio giocando una carta rossa per venire a costruire qui in questa casella su cui voglio costruire ha due pallini vuol dire che mi da due punti per ogni piano di edificio che io andrò a costruire su quella casella costruendo un piano faccio due punti poi posso continuare sempre nella stessa azione a costruire altre case e o parchi per farlo però dovrò sempre continuare dall'ultima casa o parco che ho appena posizionato io quindi giocando ancora una carta rosa vengo a piazzarmi qua e faccio un punto e poi giocando due carte gialle vado a piazzare due piani impilate su questa casella da tre quindi faccio tre per due sei punti cinque e sei e fine alla fine della mia azione di costruzione pesco una carta tocca a me sì dove ho costruito io tra l'altro si trova né nella zona rossa né nella zona blu al massimo quelle contano poi per la quindi tu hai già tracciato un pezzo di strada che io posso che tu puoi sfruttare sfruttare la sfrutterò va bene perché vale o riparte dalla fontana anche lei oppure va adiacente a un qualsiasi edificio quindi due carte blu per due della casella sono quattro punti poi voglio metterne una e quindi un altro punto per vale e adesso vale avrà un bivio sceglierà lei da che parte andare poi dovrà continuare da quella parte lì continuando a costruire poi si può interrompere due sono rossa due per tre sei in questo momento tra l'altro vale ha piazzato delle case già nell'area blu quindi li conterà solo chi ha l'edificio più alto alto almeno due se sono tutti alti uno nessuno sta facendo quei punti quindi in questo momento vale all'edificio più alto vale sta facendo dieci punti finisco il turno io che non ci sono ne sto facendo zero per adesso per adesso io pesco due ok pesco anch'io due allora noi possiamo pescare e andare a oltre il nostro si si scarterà fino a tornare a 5 esatto quindi pescando quando è già 5 peschi due eh ma e poi però dovrei scattarne comunque due che gli è cioè allora io allora dai io costruisco allora io mi gioco una rosa ma non per venire a costruire un palazzo sul rosa ma per costruire un parco per costruire un parco si seguono le normali regole quindi di adiacenza con altri palazzi o altri parchi siamo limitati a poter costruire un unico parco a turno ok quindi in un'azione di costruisco al massimo posso fare un parco e tutte le case che voglio ma per costruire il parco scarto la carta del colore che voglio io infatti scartando carta rosa vengo comunque a costruire qua sul giallo e quindi lo posso fare ma non ottengo punti dopodiché con due carte blu vengo a costruire qua e fare quattro punti e poi pesco due no pesco una scusatemi alla fine del mio turno pesco una ho sbagliato ho sbagliato scusate 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 in questo momento siamo pari come altezza nella zona blu ma vale a più case dell'altezza più alta che c'è rispetto a me che ne ho solo una quindi i punti della maggioranza vanno a vale io anche pesco due ok io gioco tre verdi e vale al palazzone più alto e fa dodici punti uno due tre quanto cinque sei sette otto nove dieci dodici e va bene così pesco e va bene così quante carte hai in mano tre io loro costruisco una rosa un punticino due rosse è vero che non ti sto prendendo l'altezza ma faccio dieci punti e qua conta solo l'altezza non il quantitativo di case di ora non è che posso dire a ora costruisco qua giù io devo continuare sempre dall'ultima costruzione che ho fatto mi fermo e pesco nella zona rossa invece che per ora nessuno si è piazzato chi ha più case indipendentemente dalla loro altezza stavo solo valutando un attimo come serpentone da io le pesco due vale a tre io a tre sono a cinque va bene io anche pesco due allora facciamo dovessi pescate prima questa naggino mannaggetta sì facciamo così allora mettiamo facciamo così passiamo di viti prendiamo e ti portiamo via facciamo un giallo che lo metto qua ok si può anche ripartire dalla fontana sì sì due punti no scusami dammi il giallo va bene e ti tolgo due punti un verde ok che è un punto due blu che sono sei punti ok verde e blu e e e va bene così pesco la carta senza parole io pesco due arrivo a sei e quindi devo scartare una carta scarto scarto questa allora vediamo che bello posso fare allora io gioco un blu qua ok ripartendo dalla fontana io in problema poi un giallo qua e faccio un punto un rosso e faccio tre punti uno due tre quando finisce quando finisce la partita appena un giocatore ha due piani o meno di palazzi ancora piazzabili un verde ok quindi hai già un sorpentone di quattro allora io costruisco e pesco solo una carta se no poi mi dimentico io con un verde vengo qua e faccio due punti e mi fermo pesco una carta e no già sì prego pesco due carte allora tu nel rosso ora sei a uno e io anche in realtà quindi ha senso vabbè potrei anche fare così che però mi serve fino a un certo punto però è bello dai faccio così una blu per mettere un parco qua e non fare niente perché si può usare il colore che si vuole tre rosse per quanto qua non serva avere i palazzi alti in quell'angolo ma sono comunque quattro per tre dodici punti uno due tre quattro cinque sei otto nove dieci dodici mi ti raggiungo e una verde vado laggiù dietro quanti punti mi dà? uno non vedevo più ok e pesco uno io pesco due ok io anche dai allora fammi un attimo vedere la situazione 4 4 come distanza allora dai io metto due blu ok qua ok e sono otto punti 2 3 4 5 6 7 8 se finisce il mazzo di pesca semplicemente si rimescolano gli scarti e va bene così pesco grazie io pesco due ok io metto un rosa qua 5 punti porca miseria mi era arrivato adesso ho arrivato il 50 ok ho arrivato il 50 va bene bravo bello l'italiano ok pescato tu qua hai tanta di quella roba che allora io io che amo solo te e non so dove costruire quindi faccio con un rosa vengo qua e faccio 3 punti con un verde vengo qua e faccio un punto poi pesco uno allora io farò pesco due però poi devo scartare allora pesco due e scarto proprio tu sei messa molto meglio di me con le con la sequenza di più lunghi la siamo a tu ne hai 1 2 3 e io ne ho 1 2 e 3 quindi siamo pari però io di qua potrei arrivare ad accaparrarmi questo senti io pesco ancora due e poi anche io butterò via una e butterò via questa rosa ok allora facciamo io metto con un rosa vengo qua e sono due punti poi un blu e va lì entra anche nell'altra parte blu quindi se conteranno come se fossero un'unica zona non è che si danno i punti due volte 6 punti 6 punti e va bene così c'è un mega sorpentone pesco e va bene così allora io con 4 gialle però vengo qua 1 2 3 4 sto anche per finire le casette con 4 gialle io verrò qui adiacente a te 4 per 4 16 punti 1 2 3 4 5 6 e in questo momento io ho anche la casa più alta nella zona blu 16 50 anche tu e mi fermo e pesco una allora io dovrei riuscire a fare qualcosa pesco due io anche e che così mi blo mica miseria va bene tu quante ne hai 1 2 3 1 2 3 e dovrei riuscire a fare me ne posso fregare di quello vai tocca a te quante casette hai poche 6 7 8 pesco dovresti mischiammi per favore grazie devo pescare ancora una però devo scartare intanto valutation valutation e american shuffle riffle shuffle le shuffle ancora una volta poi tagliamo il mazzo shuffle diciamo che è un miscuglio francese e un quadruplo cut vai pesca pure abbiamo perso completamente tutte le carte allora questo qui questo qui questo qui scarto questa ok io con un giallo vengo qua e faccio due punti con un altro giallo costruisco un parco qua e con due rosa faccio otto punti qua come vedete il parco lo si può costruire in qualsiasi momento della vostra azione costruire può essere la prima cosa l'ultima a metà come volete alla fine pesco una carta allora io faccio rosso qua ok due punti no finisci le carte porno non mi sono accorto che chiudeva uno due tre quattro cinque sei e metto ancora questo qua quattro e mi dispiace hai voluto le chiavi della città e mi sei pure passato avanti come quantitativo di case nei rossi hai voluto le chiavi della città vale a meno di due case quindi innesca la fine della partita siccome il primo giocatore ero io la partita termina immediatamente e io mi sono mangiato un sacco di punti ma non hai detto che però ho una carta in mano in caso di parità spareggia chi ha più carte in mano quindi potrebbe non hai detto che magari per farti il dispetto mi sono andata adesso andiamo a valutare le maggioranze quindi chi ha nelle due zone blu la casa più alta di tutti io quindi io faccio dieci punti ma vale comunque ne fai sei io vado a ventinove e tu vai a ventotto chi ha più case nelle zone rosse io qua ne ho due tre quattro cinque tu ne hai una due tre quattro cinque sei quindi vale fai dieci punti trentotto e io ne faccio sei uno due tre quattro cinque cinque perché chi ha la sequenza ininterrotta più lunga di case io ne ho quattro tu qua ne hai sette quindi vale fa altri dieci punti io ne faccio uno due tre quattro cinque sei e quindi 98 a 91 vince vale brava brava grazie brava brava perché insomma diamole le chiave della città ai giovani sbarbatelli secondo me non mi hai dato questi sedici punti quando ho costruito questa te li ho dati neanche questi dodici secondo me i dodici te li ho dati i miei dati complimenti complimenti signori e signori questa era sunrise lane del dottor Rainer Nizia che ci guarda sempre quindi lasciate un commento salutatelo salutatelo guten tag dottor Nizia perché lui ma anche se è la manina che fa così è universale la manina così ciao ciao Nizia sotto nei commenti perché lui ci tiene molto la community italiana ci segue sempre ci scrive spesso questo era appunto il suo gioco trovate qua sotto in descrizione tutti quanti i link utili dove poterlo acquistare dove poter approfondire il vostro sunrise lane noi al solito vi ringraziamo per essere stati con noi vi ricordiamo che qui a casa Giullari si gioca per giocare i Giullari vi salutano e che il gioco sia con voi ciao auf Wiedersehen tschüss ciao